Con la scomparsa di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca. Partecipiamo al cordoglio della sua famiglia, dei suoi cari, di tutta Forza Italia, delle altre forze di maggioranza e del governo. Siamo stati sempre avversari, ma in questo momento rimane il grande rispetto che si deve a un protagonista della storia e della vita politica di questo Paese. Per questo motivo abbiamo deciso, in segno di rispetto, nel momento di dolore, di rinviare la direzione nazionale che il Partito Democratico doveva svolgere questo pomeriggio. Grazie.